questa è la casa di mia nonna sì in realtà la casa era del pittore augusto giacometti e mio nonno ne aveva comprato una parte perché era divisa in realtà ogni estate per noi era una certezza si veniva qui si veniva in bregaglia da qui si partiva poi per andare a isola che era un'avventura era molto bella e la cosa che a me rimane proprio il ricordo più bello di quando partivamo c'era uno zio che veniva a prenderci con una macchina un po più grande mia mamma faceva tutti i suoi bauli le sue valigie e arrivati in questa casetta appunto a isola lei tirava fuori il filo per stendere nel momento in cui questo filo veniva attaccato li voleva dire che si poteva cominciare a vivere senza quel filo per stendere nulla poteva iniziare una cosa un po particolare era che vivendo noi in italia con la mia famiglia noi parlavamo in italiano abbiamo sempre parlato in italiano e si parlava in bregagliotto appunto magari per telefono sentendo la nonna ma invece nei nostri viaggi per venire in vacanza appena arrivavamo al confine si cominciava o sul treno polico e chiavenna o al confine si cominciava a parlare bregagliotto il bregagliotto mi ha dato questa identità nonostante appunto non potesse essere utile nessuna contesto sociale nessuna parte del mondo io sono molto contenta che loro crescano qui più piccolino è arrivato che va due anni e mezzo e quando gli si chiede dove è cresciuto lui dice che è cresciuto a stampa non si ricorda di roma assolutamente non la riconosce quando siamo andati appunto era un bregagliotto a roma non invece la più grande si grande nostalgia delle sue compagnie di asilo quando mi chiedono di dove sei ho sempre un po difficoltà perché ho iniziato un racconto di un quarto d'ora dice no perché mio nonno era di qui mio padre poi è andato là ma io sono nata qui ma non ci sono stata molto perché sono nata a verona ma appunto siamo poi trasferiti due anni dopo è sempre stato un po difficile collocarmi in un posto in particolare perché diciamo partendo proprio da mio nonno non andrei più indietro lui era un pastore protestante è stato poi partigiano quindi rifugiato diciamo in svizzera da lì è andato poi all'estero di nuovo è nato in uruguay dove è nato mio padre mio padre aveva credo tre cittadinanze un uruguaiano un italiano la svizzera sia io che i miei fratelli ci siamo spostati spessissimo ma addirittura ci sono stati delle città dove sono stati tre domicili diversi la catania che abbiamo fatto due traslochi diversi tornare dopo tanti anni in un posto ti fa rendere un po conto che in realtà le radici rimangono legate a qualcosa di interiore o a qualcosa che riguarda le tue origini nel senso da chi discendi tu e avendo appunto delle personalità con una vita molto densa molto vissuta molto partecipata penso che le radici le mie radici sono in fondo più nel magari nella nella moralità che io ho ereditato nell'impegno di cui io ho visto gli esempi ecco più che più che non nei posti perché alla fine i posti sono di chi secondo me è molto attuale questo discorso ma il posto è di chi ci vive in quel momento è impensabile dire questa è la mia terra perché ci sto qua da da generazioni ognuno chiaramente porta del proprio nel posto dove va ed è anche bello che sia così è anche bello che appunto ci siano persone che vengono da posti lontanissimi e che portano qualcosa della loro cultura e e da questo si va avanti creando cose sempre nuove grazie a tutti